SIGLA Vedo che vi siete incontrati. Che sta succedendo, Dom? Sì, perché ci hai trascinati qui da mezzo mondo? C'è un lavoro che ci aspetta. Riusciremo a entrare e uscire prima che se ne accorgano. Sì, ma stiamo parlando di una stazione di polizia. È una follia. No, sono cento milioni di dollari. Quanti? Io ci sto. Per arrestare due uomini non è un po' eccessivo. Uno è un ex federale che ha passato cinque anni sotto copertura. L'altro un professionista del crimine. Evaso due volte. Li troviamo, li prendiamo e li riportiamo indietro. Ma soprattutto non dobbiamo mai, mai, lasciarli entrare in macchina. Siamo al primo posto nella classifica dei ricercati. Ora dovremo scappare. Scappare non è libertà. Sei finito. Grande sbaglio. Siamo passati da missioni impossibili. La missione è impensabile. Non è cambiato niente. Prima o poi finiremo dietro le sbarre. Oppure sepolti in un fossato da qualche parte. Ma non oggi. Sì. Grazie a tutti.